Ciao a tutti ragazzi, salve a tutti e buona vista alla vostra ectore di Ode Lapegna Malbuena e Spindosa di Santiago di Compostela in spagnolo Tutti ragazzi, allegria! Vai, pronti per le robobby di riformazione monostrici, sempre d'ora Napoli X2 Direi 2-2 o 1-3 per il Napoli 3-1 per il Napoli Adesso andiamo a quella che ci piace a noi Torino-Lazio Mininko Savic, Cici, Bremer, Rodriguez, Singo E Pagnoli, Popeca, Mandracola, Olaina, Brecalo, Linetti, Sanabria Reina, Lanzari, Patrick Spagnoli, Spagnoli, Acerbi Io sai, Mininko Savic, Cataldi, Luisa Alberto, Spagnoli Petro, Ciro a mobile, Ciro immobile e Felipe Anderson Questo è in spagnolo Allora, io dico che in X2 O Lazio fa 1-1 Con Sanabria Cataldi Se lo vedo, un uomo del Parincio Oppure 1-4 per la Lazio Con Linetti per loro Brecalo, Bregalo, sono Bregalo Dai, facciamo segna a Bregalo Proprio Lazio segna Immobile, Felipe Anderson, Luisa Alberto E Petro Dai, avanti ragazzi Ce la possiamo fare Sono certo che questa partita possiamo vincerla Se giochiamo davvero a Lazio Ci sono tante assenze, è vero Luis Felipe non è al 100% Lucas Leiva neanche Non sappiamo E Giaccagni nemmeno Però, non te lo dico Giaccagni non ve ne dico Vediamo Roma Udinese Allora Udinese Dico che 1-2 Vinciano la Roma 3-0 Un po' l'Udinese Potrebbe far ricolparci Un bello 1-2 Vedo Come possibile il risultato 2-1 per l'Udinese Vabbè A presto al vostro Hector Agliapena Buon ispirazione Come postale spagnolo Uè A tutti ragazzi Allegri Vi saluto e vi ringrazio Sempre e comunque Forza Lazio Bene a tutti Belli e brutti A presto Forza Azzurri Sembra comunque Forza Azzurri E domani il video Si basa sui personaggi Nel Zoom Eleven L'indice in più è questo Dovete indovinare Di che si tratta Però parlerò dei personaggi Dirò quali sono i miei preferiti Oppure giudicherò In base a una lista Questo dovete scoprire Lo scoprirete domani D'accordo A presto E buona la prima